Ladri in azione a Ponterio. Ad essere preso di mira il centro ottico GS sulla strada provinciale SP 424. Intorno alle 11 di ieri sera i ladri armati di mazza sono entrati nel negozio riuscendo a rompere il vetro antisfondamento della porta d'ingresso. Un colpo con un obiettivo ben preciso gli occhiali da sole. Infatti mentre altre esposizioni sono rimaste intatte quelle contenenti occhiali da sole sono state ripulite. Questo è il secondo furto in poco più di un anno che il negozio subisce e la tipologia di occhiali rubati è sempre la stessa. A nulla sono valsi gli allarmi installati che pure hanno svolto il loro lavoro. Infatti all'arrivo dei proprietari era già presente la guardia notturna e i carabinieri della locale stazione di Monteporzio avvertiti appunto dagli allarmi. A nulla è valsi un ulteriore sistema di protezione che emette fumo all'interno del locale per disorientare i malviventi.